Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In a 15 code tra Berceto e l'area di servizio di Montaio per un mezzo pesante incidentato in direzione alla Spezia. Sulla Fipili fare attenzione per nebbia tra Santa Croce sull'Arno e la diramazione per Pisa. Sulla Statale 2 Cassia, tratto chiuso per lavori di manutenzione del Ponte del Paio tra Radicofani e Abbadia San Salvatore. Tratto chiuso anche sulla Statale 67 Tosco Romagnola tra Abbadia Arripoli e Le Sieci. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze, per i lavori della linea 2 della tramvia, chiuso l'attraversamento dell'area dell'incrocio tra via Guido Monaco e via Cittadella per i veicoli provenienti da Viale Fratelli Rosselli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!